Sempre un derby ma dai toni meno accesi quello del Galileo Speziale all'Acqua e Sapone basta un punto per salvarsi senza osservare i risultati di Serie D. L'Angolana vuole chiudere in bellezza una stagione molto positiva fischia Nico Pellegrino della sezione di Teramo. Il primo tempo si apre con il vantaggio dei padroni di casa Marrone sfonda sulla sinistra, palla al centro, sbuca Jacopo Evangelista. 1-0, quarto centro per l'attaccante esterno di Mister Del Gallo Acqua e Sapone e Angolana non amano studiarsi e preferiscono colpire Di Giovanni, Siluro sotto il 7 immediato pareggio per gli ospiti che oggi non vogliono lasciare i tre punti agli avversari è un'Angolana che negli spazi può davvero far male. Diaie lascia sul posto Erasmia, arriva tu per tu con Palena il palo, salva i verde oro che però tornano immediatamente a spingere. Marrone fa impazzire Ruggeri, Petito sfiora il legno con un bel diagonale. Tenta anche il classe 2000 D'Agostino senza trovare lo specchio della porta difesa da Di Pasquale. Nella ripresa il ritmo scende vertiginosamente. Al decimo i padroni di casa protestano per un possibile penalty. Atterrata Evangelista per Pellegrino si gioca. Il solito D'Agostino raccoglie un pallone vagante, calcia, salvataggio sulla linea. Dall'altra parte chiude un'ottima azione l'Angolana. D'Alonso, Bizzarri, D'Alonso col numero due che manca l'appuntamento col pallone. Risultato che può andare bene ad entrambe. Dopo quattro minuti di recupero l'Acqua e Sapone festeggia aritmeticamente la permanenza in eccellenza. Mentre c'è gioia anche per l'Arenato Curi-Angolana. Difesa meno perforata del torneo. Mister Del Gallo è il pareggio senza dubbio più importante di questa stagione perché vi permette di salvarvi. Sì, cercavamo quest'ultimo sforzo da fare perché saremo stati salvi se non ci fosse stato il problema della Serie D. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, 45 punti. Difficile trovare un campionato d'eccellenza, arrivare a 45 e non essere ancora sicuri di essere salvi. I ragazzi hanno fatto una grande cosa, ringrazio tutti, ringrazio lo staff che è stato esemplare per l'aggiungimento di questa salvezza, la società e tutti i ragazzi. Sì, volevo dare qualche numero adesso a consuntivo di una bellissima stagione, quindi siamo miglior difesa e il nostro difensore più, diciamo, anziano è un 95, quindi anche da lodare la giovane età. Abbiamo fatto 4 punti più l'anno scorso, quindi ci siamo migliorati e questa è un'altra cosa importante. Siamo stata l'unica squadra che ha violato il campo della Torrese e questi sono dei numeri importanti e io volevo dedicare tutto questo a chi ha permesso il tutto e quindi volevo ringraziare e dedicare tutto questo alla società, ai due presidenti Bancoschi e Spinelli, al mio staff, al direttore, ai nostri tifosi, a tutti i ragazzi che veramente sono stati stupendi.